Buongiorno a tutti. 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 Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno 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 a tutti. Quando Carlo serviu che sava le batterie perché non aveva uso lei disse che resta lì In l'edizione già avevamo la struttura ma anche avevamo che trovare che mettere in le letture del libro con la voce di Manolo Carlo mi ha orato molto buscando foto e archivi Tambi grabé in Vigo molto temprano un domingo nel casco viejo In Vigo mi ha orato molto il post-production Miguel Taboada che sta allì e ora è un grande amico El hizo magia con le foto, la messa di musica, le voce e gli grafici Grazie anche a Oscar Díaz per il suo aiuto in rodaggio Antonio Ogeo per prestare la sua voce e Gerardo Santomi per la musica Io avevo il documento Carlo e sua madre in la residencia di Vigo cerca di Samir Llevo la cinta finale alla televisione di Galicia che mi ha piaciuto Però di mala suerte, avevamo le elezioni antes della trasmission e gano Pepe Cambio la direzione della televisione di Galicia di una razza o altre Non mi ha piaciuto mettere il retrato di un esgerista di franco Bene, allora in gli archivi della televisione di Galicia E ci sperando il momento Un lavoro Photovografico è stato il miglioro professionale più importante del mio tempo in inglese, e ho apprendito molto della storia e dei conflitti così importanti del siglo XX in España, e ho anche raggiunto grandi amici, e grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti i nostri famigliatori che partecipano in una filmazione, e ho mi attreverso a dire, del Comitato Sobreira e del Partito Comunista, per questa obra magnifica, che un giorno i gallegos, mai pronto che tardi, potrebbero vedere tutti a través della televisione di Galicia. Tiamo la esperanza che sia così. Per despedirmi, un ricordo di quattro persone che partecipano in una filmazione e che non stiamo tra noi, Carmen Guimerans, Mucha, Miranai, che morre il buono passato, Tina Fernandes, la prima di Manolo, di Coruso, che morre il buono passato, Manuel Cajiao Ferrol, o amiguiño di Manolo di Manolo di tantos anni senza barreras, che morre il buono passato, e Pepe Cameselle, che è il representante della nuova generazione che tanto admirava mio pai, che morre il buono passato, più nuovo che il buono passato. e poi, come dicevo a Xavier Castro, mi è un compagnolo in una Facoltà di Geografia e Historia di Santiago, una reseña che fico, che fico, che fico, to libro, cando morre un bello è come una biblioteca che ha. Sen memoria non hai futuro. Viva nosi traballadores! Grazie.